dunque siamo a pian del poggio ok questa è la seggiovia esattamente questa è la seggiovia che ci porta lassù in cima ma noi non prenderemo la seggiovia noi ci faremo tutto il percorso a piedi passando dall'altro lato quando saremo lassù in cima vi faremo vedere questo a grandezza naturale vero mandorla ci tocca camminare dai amore se non ci travolgono queste sono le piste da sci da sci alla baby sci ma noi la facciamo in scialita andiamo amore voi siete stanzi per avviate questa è il mandorla manco di velo Vieni qua, vieni qua. va bene adesso chiediamo le comunicazioni a tutti Grazie a tutti. 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 Non ti buttare! Ma non ti buttare. Ed ecco la seggioria, quello che abbiamo visto dal basso. Insomma, eravamo lì sotto stamattina. Grazie a tutti. Grazie a tutti.